No! Numero 5, Lentro! Numero 3, Pines! Numero 11, Rodrigo! Numero 4, Raja! Numero 15, Minole! Numero 22, Mattia! Numero 27, Cunzi! Ogni volta che il campo è una storia diversa, è il nostro simbolo! Numero 12, Contosco! Otti! Cos'è? Numero 4, Robot a disposizione! Numero 4, Contosco, Lucci! Numero 2, Coloi! Numero 33, Edvaldi!